Gestire il dolore in maniera diversa, anziché curare la manifestazione sensoriale, quindi con gabapentin per esempio, oppure con opioidi, forse magari potremmo agire sulla causa a il monte, quindi inibire la percezione dello stress da parte del cervello, perché poi la percezione dello stress a causare il dolore. Questa era la teoria che volevamo verificare. Quindi diamo un'occhiata a questo diagramma, c'è un nervo che si chiama nervo vago, non so se lo conoscete. Probabilmente avrete tutti sentito parlare del nervo vago che dal cervello raggiunge tutti i nostri organi interni. Il suo scopo è quello di mantenere l'infiammazione sotto controllo, quindi è direttamente connesso alla milza e ai globuli bianchi e controlla la risposta infiammatoria. La risposta stimolata dal nervo vago è così potente che se il nervo vago si stimola in pazienti effetti di artrite reumatoide, che sono refrattari a tutti i trattamenti tradizionali, vanno in remissione quasi immediatamente. Questo è uno studio clinico già completato che conferma questa connessione. Quindi questo strumento, lo stimolo del nervo vago, è lo strumento più adatto che abbiamo per interrompere la risposta infiammatoria. Non sappiamo esattamente quale sia l'area del cervello deputata a questo processo, ma nelle donne affette da endometriosi ce ne sono alcune che soffrono di dolore cronico e altre no. L'endometrio in sé è stato studiato per anni dagli scienziati senza che si trovasse alcuna spiegazione sul perché alcune donne soffrono di dolore cronico e altre no. Ma all'Università del Michigan è stata fatta una ricerca che ha dimostrato che la parte del cervello si chiama area periacquedottale grigia nel cervello, che risponde agli stimoli del dolore. Nelle donne che non soffrono di dolore cronico questa parte del cervello è più sviluppata, quindi questo significa che questa parte potrebbe, questa parte del cervello, questa area del cervello potrebbe essere direttamente responsabile della gestione del dolore. Vi ricordate le fotografie di stamattina dei tailandesi con le spade conficcate nella guancia? Ecco, il fatto che queste persone abbiano quest'area del cervello più sviluppata della norma potrebbe avere qualcosa a che vedere con la loro superiore capacità di gestione del dolore. Studiando il nervo vago si può capire se il cuore si sta modulando in maniera adeguata oppure no. Nei pazienti affetti da dolore cronico, come potete vedere qui, HC sta per healthy control. Nei pazienti affetti da disturbi gastrointestinali, come il vomito ciclico eccetera. Con lo stimolo del nervo vago l'effetto sui bambini affetti da questi disturbi è maggiore rispetto a quelli del gruppo di controllo. Con il programma iScan stiamo cercando di capire se il nervo vago interrompe la fase acuta, la risposta quindi proveniente appunto dallo stress, direttamente a livello del sistema nervoso autonomo. Quindi vorrei riassumere adesso perché è tutto molto interessante. Esiste una connessione molto stretta tra il livello di stress della persona, la risposta infiammatoria e la fase acuta del dolore. Questo chiarisce tantissimo la natura appunto delle fasi acute del dolore. Salterò queste slide. Questo è un altro modo di stimolare il nervo vago, si utilizza uno stimolatore microauricolare, noi lo utilizziamo, uno strumento disponibile anche in Europa in ogni caso. Quel dispositivo riduce emicrania, nausea, dolore. Ma la cosa importante è che ci sono altri modi di stimolare il nervo vago. Per esempio con l'esercizio fisico. Si riduce il numero di globuli bianchi, quindi con l'esercizio fisico si riduce l'infiammazione e si migliora la modulazione del nervo vago. La copuntura aiuta, lo yoga aiuta. La maggior parte delle cose di cui si è parlato oggi migliora la risposta vagale. Quindi l'esercizio fisico va aiuto a stare meglio in generale, ma a parte appunto la questione generale in sé per sé, in termini proprio specifici altera il modo in cui opera il cervello a livello proprio vagale. Quindi il dolore ha un impatto minore sulla nostra psiche e sul nostro fisico. Ora, prima è stata fatta una domanda su un medicinale che è l'opposto della morfina, un medicinale che blocca gli oppioidi. l'odonastraxone che è pro-infiammatorio. Aumenta la risposta infiammatoria e infine aumenta il dolore in lunga durata. Esistono dei ricettori che si chiamano TLR, in tedesco si chiamavano TOL, perché quando sono stati scoperti il medico gli ha scoperti e gli ha detto DASIS TOL, ma che bello! E sostanzialmente controllano i ricettori del dolore nel nostro corpo. Con la morfina si distruggono le sinapsi. Questo è il ricettore. Con naltraxone o con il nalaxone la risposta infiammatoria si interrompe. Quindi questi sono farmaci che io preferisco prescrivere alla morfina proprio perché hanno effetti migliori sul corpo e sul cervello. Passiamo alla seconda parte della presentazione. Parliamo di gravidanza adesso. Ok, adesso non abbiamo più 28 anni, non abbiamo dolore cronico, abbiamo 33 anni. Stiamo aspettando il nostro primo figlio. Abbiamo ipermobilità, EDS. Ancora ogni tanto soffriamo di lussazioni dell'anca, ma facciamo esercizio 5 volte a settimana e il vostro medico curante pensate che stiate bene. Quindi in questa situazione cosa vi consiglierebbe di fare il medico curante? Diamo un'occhiata a alcuni dati. Quali sono i rischi associati alla gravidanza per le donne affette da EDS? Abbiamo chiesto ai nostri soggetti e alle nostre donne avete avuto problemi? Mi muoverò da questa parte della stanza per rivolgermi direttamente anche a voi che state alla mia sinistra. Abbiamo chiesto alle donne, ai nostri soggetti, avete sofferto di aborti spontanei, siete infertili. Abbiamo scoperto che le donne affette da EDS nel 25% dei casi sono andate in parto precoce. Altissimo il tasso di aborti spontanei. Eclamsia molto alta, infertilità molto alta. Questo è un questionario retrospettivo. Ma ci sono anche altre cose da analizzare. In questo caso parlo dei vari tipi, nel grafico si parla dei vari tipi di EDS. Esistono delle leggerissime variazioni ma non è il caso di parlarne adesso. La cosa interessante è questa. Nel caso di donne affette da EDS in gravidanza è importante fare ultrasuoni intrauterini per confermare la gravidanza. Verificare che l'ipermobilità non stia causando problemi seri alla donna. è importante in ogni caso anche consultare un esperto in genetica prima del parto o durante la gravidanza. Ora, in questo caso si trattava di un questionario leggermente parziale perché ci sono persone a cui piace di più, che rispondono più volentieri alle domande di un questionario e c'è un motivo. Ma in ogni caso abbiamo dei dati interessanti. In Svezia sono state intervistate più di un milione di donne, 314 affette da EDS. e in questi casi non ci sono state evidenze di parto precoce, rottura prematura di membrane, non c'è stata necessità di intervento cesareo, non c'è stato aborto spontaneo, né nulla del genere. Questo è uno studio basato sull'esperienza medica di alcuni professionisti piuttosto che su donne, soggetti che si sono sottoposti volontariamente al test, che hanno risposto volontariamente allo studio. Quindi, in questo studio invece abbiamo studiato il tasso di donne che hanno problemi di prolasso dopo la gravidanza, che questo era principalmente il nostro obiettivo, per verificare in che modo il prolasso si può collegare alle EDS. Di mille o poco più donne intervistate ne sono state scelte 587, quelle che sono entrate nella seconda fase del parto. Donne che avevano alti punteggi di beighton. In questi casi il rischio di aver bisogno di intervento cesareo era più alto per le donne non ipermobili. Quindi se sei ipermobile è più facile che tu possa portare a termine con successo un parto naturale, piuttosto che nel caso contrario. Un dato statisticamente significante, le donne non ipermobili avevano più probabilità di sviluppare lacerazioni dello sfintere anale. Perché? Perché le donne ipermobili hanno più lassità nella zona pelvica. Quindi si è confermata l'ipotesi originale degli studiosi. Hanno trovato questi scienziati esattamente quello che stavano cercando. Cosa ci dice la letteratura? Che io scusa, aumento un po' la velocità perché sto andando lentamente. Che cosa dice la letteratura? Io credo agli studi in prospettiva. Se fossi io a curare la donna in questione, direi guarda, non ci sono alcuni rischi. Io non vedo nessun rischio in particolare per te, anche se magari ce ne potrebbero essere. Quindi sicuramente fare un ultrasuono intrauterino, confermare la gravidanza, monitorare la lunghezza della cervice nel secondo trimestre, ma non preoccuparti in generale. Ecco, questo è un riassunto di quanto vi ho appena detto. I pazienti con l'EDS in linea di massima hanno segnalato l'insorgere di alcuni problemi, ma a livello empirico poi l'evidenza non sembra supportare questa teoria. Per quanto riguarda l'infertilità, moltissime donne infertili, ma una cosa interessante, se diamo un'occhiata alle cause, le cause dell'infertilità erano quelle normali, certe sindrome, problemi a livello ovarico e così via, nulla di necessariamente legato all'endometrio a causa dell'EDS. Quindi non ci sono prove che l'ipermobilità abbia un effetto diretto sull'infertilità. Bisogna fare valutazioni normali per capire se ci sono problemi di infertilità nelle nostre pazienti. Quindi nessun legame empirico fra EDS e infertilità. Queste sono delle cause che potrebbero contribuire all'eventuale infertilità, ma non dare nulla per scontato, molto importante. Controllare la cervice durante la gravidanza. Parliamo del ciclo mestruale. Molte donne hanno problemi di sanguinamento intramestruale. Molte hanno segnalato problemi di interfase fra i cicli mestruali e i sintomi. Questo è uno studio forse addirittura migliore e più interessante, in cui non si sono trovate prove di collegamenti esistenti fra lacerazioni vaginali e l'EDS, né sanguinamento ed l'EDS. Se le fasi acute coincidono con il ciclo mestruale potrebbe essere interessante per voi provare a prendere la pillola anticoncezionale. Con la pillola anticoncezionale alcune donne sono migliorate, altre no, ma se ci sono fasi acute in corrispondenza del ciclo mestruale sembra minore la probabilità di migliorare se si prende la pillola, il che è una cosa paradossale. Parliamo di problemi strutturali. Prolasso. Prolassi interni della vescica, del retto. La domanda è, esiste un'associazione fra il prolasso e l'EDS? Questo studio condotto su donne turche dimostra che sì, più è alto il punteggio di Byton, più è alta la probabilità che si verifichi un prolasso, più è alto il punteggio, più lungo sarà il prolasso. Questi sono dati raccolti durante, nel corso di studi del tratto gastrointestinale, ci sono stati evidenziati problemi nei patenti effetti da EDS di incontinenza urinaria, per esempio, leggermente più alto il tasso di prolasso pelvico in persone affette da EDS rispetto a persone che non sono affette da EDS. Quindi per rispondere a questa domanda, sì, effettivamente c'è una probabilità leggermente più alta di sviluppare problemi legati al prolasso se si ha l'EDS. Sebbene questo studio dica che non c'è nessun rapporto con i parti, non esiste la possibilità di avere un prolasso se non si è partorito, ma in termini generali, secondo questo studio, per quanto riguarda le differenze tra i vari tipi di prolasso, il trattamento del polodasso nella sindrome di EDS-Danlos, io quindi raccomando in questi casi di fare pilates, esercizio fisico, bisogna evitare esercizi che, con un carico alla fine del documento, esercizi di grande impatto e chiaramente consiglio anche di andare da un fisioterapista. E con questo concludo.